Oggi qui a Palazzo Madama si è svolta l'informativa urgente su increciosi fatti avvenuti alla clinica milanese Santa Rita. Per il governo c'era anche il sottosegretario al welfare con delega alla salute Francesca Martini. Allora, sottosegretario, quale ruolo deve avere il governo di fronte a questa inchiesta? Fattori gravissimi sono intervenuti in questa situazione in cui al di là del grave danno all'immagine del Servizio Sanitario Nazionale e della truffa ai danni dello Stato che verrà appurata attraverso l'indagine della Guardia di Finanza in coordinamento con la magistratura. Quello che più colpisce è come abbiamo assistito a un vero e proprio danno fisico che ha portato anche ad eventi in Fausti nei confronti di pazienti che sono stati trattati come carne da macello. Ecco, in questo, quello che mi premeva sottolineare in questa informativa al Senato è che il Ministero della Salute, cioè il Ministero del Welfare nella sua articolazione della salute è immediatamente intervenuta supportando la Regione Lombardia con degli ispettori che hanno coadiuvato le valutazioni sui fatti avvenuti che da questo evento gravissimo parte un giro di vite sull'attenzione già presentissima e su cui stavamo già lavorando dal nostro insediamento sull'applicazione delle DRG ma soprattutto sulla proprietà dei percorsi sanitari proposti all'interno del privato convenzionato ma anche del pubblico e che sarà da valutare in maniera assolutamente importante un ampliamento, devo dire, consistente delle possibilità di controllo delle prestazioni, dell'erogazione delle prestazioni e delle cartelle cliniche che noi stiamo lavorando per informatizzare quindi informatizzare completamente il percorso del paziente. Quello che ho affermato in maniera molto forte è che non potrà mai più accadere che ci troviamo di fronte a una deriva di questo tipo in cui da una parte abbiamo il paziente visto come una sommatoria di DRG quindi di tariffe che possono essere richieste al Servizio Sanitario Nazionale come rimborso delle prestazioni erogate e non dovremo mai pensare alla persona come a una sommatoria di patologie. Ecco, tutto questo, devo dire, è un tema che deve far molto riflettere non soltanto per quanto riguarda la classe medica, l'erogazione delle cure la responsabilità di governo che noi oggi ci troviamo a portare avanti ma anche e soprattutto nel rapporto, nella relazione medico-paziente la trasparenza dei percorsi e l'umanizzazione che sta alla base di una buona sanità.